In questi giorni stanno succedendo un sacco di cose. Conduttori che se ne vanno, giornalisti che leggono comunicati contro la loro stessa azienda e, perché no, monologhi censurati sul 25 aprile. Oggi l'idea di video che ci è venuta riguardava un po' il mondo della televisione italiana, in particolar modo quello RAI. Come funziona la RAI? Perché stiamo vivendo questa situazione? Cosa c'entra il governo? E, soprattutto, cosa potrebbe cambiare? Perché la tempesta che vediamo ora in realtà nasce da molto prima e forse è il caso di riavolgere il nastro. Allora, per chi non sapesse proprio nulla, lui è Antonio Scurati e si tratta di uno dei giornalisti del Corriere della Sera più noti, tra l'altro anche autore di ben tre libri, la trilogia M, che ha vinto anche un premio strega riguardo proprio il fascismo e un'analisi su Benito Mussolini. Non si tratta quindi dell'ultimo degli arrivati e gli era stato proposto di fare un monologo sul 25 aprile, il 20 aprile sabato, sul programma di RAI 3 che sarà condotto da Serena Bortone. Il punto è che, sorpresa delle sorprese, il monologo viene cancellato prima appunto della sua messa in onda e la sua ospitata eliminata dal programma. Questo è stato visto da subito con del sospetto, sia perché il monologo riguardava il 25 aprile, sia perché appunto Scurati ha fatto una serie di libri e ha trattato molto spesso il tema del fascismo. La questione è divampata nel momento in cui Serena Bortone ci ha fatto un post sui social, che è stato ripreso da moltissime altre testate giornalistiche, ottenendo molta più risonanza e leggendo anche lo stesso monologo di Scurati all'interno della sua trasmissione televisiva, dando uno smacco al stesso vertice RAI che ha deciso di cancellare l'ospitata. La stessa conduttrice Serena Bortone ha affermato di non conoscere le reali motivazioni di questa censura, il punto è che proprio questo ha portato a credere che sia stata fatta per un motivo principalmente ideologico. Da questo momento in poi la RAI ha cominciato a dare una serie di motivazioni, che dovrebbero essere appunto reali, riguardo il perché si è stata cancellata l'ospitata di Scurati. Il problema è che queste motivazioni reggono poco. In primi si è stato detto che il cachet dell'autore era evidentemente troppo alto rispetto a quello che si paga in generale, ma un articolo di La Stampa uscito proprio ieri ha dimostrato come in realtà moltissimi altri artisti vengano pagati anche di più di 1800 euro che era il cachet di Scurati, e tra l'altro è normale che per qualsiasi prestazione un intellettuale viene ugualmente pagato. Allo stesso tempo un'altra motivazione che è stata data riguardava l'essere semplicemente una scelta editoriale. Il problema è che anche questo ha fatto pensare e storcere il naso chi riteneva che in realtà la scelta fosse semplicemente ideologica. Il problema come sempre è che il fattore censura può portare a più visibilità dello stesso monologo in questione rispetto a se non fosse stato censurato. Un esempio è stato anche che la stessa Premier Meloni ha cercato un po' di calmare le acque pubblicando lei stessa integralmente sui suoi social il monologo, che quindi ha avuto molta più visibilità rispetto a quello che avrebbe avuto se Scurati semplicemente fosse andato su Rai 3 a dire quello che aveva preparato. Ora, già di per sé il fatto è grave ed è anche poco credibile tutta la serie di motivazioni che sono state date per la censura o la cancellazione del monologo. Il problema è che arriva dopo una serie di questioni che in Rai sono divampate negli ultimi mesi, a partire già dal fatto che siamo al secondo comunicato che l'USIG Rai ha fatto proprio nei confronti della mancanza di pluralità all'interno delle voci delle stessi conduttori Rai. Quindi abbiamo giornalisti che si sono ribellati contro la mancanza di pluralismo che hanno denunciato all'interno delle reti Rai. Una Premier che è intervenuta ripubblicando un monologo che infine questo monologo è stato censurato da un programma per il quale era prevista la sua ospitata. Cerchiamo di riavvolgere il nastro e di capire questa storia da dove inizia. C'erano dei segnali premonitori. Nel maggio del 2023 Fabio Faccio e Luciano Letizetto hanno annunciato l'addio alla Rai. Stessa cosa hanno fatto a giugno Lucia Annunziata e Corrado Auges, seguiti poi da Massimo Gramellini e a luglio da Bianca Berlinguer. Per molti di questi, ma forse anche tutti, la motivazione risiede in come i vertici Rai filogovernativi abbiano deciso di mettere da parte quei giornalisti e presentatori un po' scomodi, che erano però i principali a fare share sulla televisione pubblica. Solo che nel recente passato non c'era mai stato questo esodo di conduttori così corposo, nonostante la Rai sia da sempre stravolta a ogni cambio di governo. Ma perché stravolta a ogni cambio di governo? Cos'è che veramente cambia? Beh, ecco, qui credo sia arrivato il momento di affrontare un po' l'argomento di come funzionano i palinsesti Rai e anche come viene spartita e lottizzata la stessa azienda pubblica. La Rai è un'azienda con più canali e con più telegiornali, giornalisti e conduttori diversi, certi più affini ad alcune ideologie politiche, altri ad altre, ma la sostanza è che con ogni governo questo viene stravolto. I conduttori più filogovernativi vengono preferiti nei canali più visti, come ad esempio Rai 1, e vengono messi in secondo piano quelli dell'opposizione. Ovviamente tutto ciò causa uno squilibrio nell'informazione, che è il tema più importante, ma finora è sempre stato considerato l'unico sistema possibile, dato che la Rai non è un'azienda privata e segue il governo di turno in carica. Nel tempo si è anche pensato a un sistema un po' diverso rispetto a questo, ad esempio a partire dal rendere la Rai una fondazione, quindi esterna al dibattito governativo e politico. Il punto è che nessuno ha mai avuto neanche l'intenzione più di tanto di farlo, per cui si è sempre preferito cercare di modellare le cose mantenendo lo stesso sistema. In particolar modo istituendo la Commissione di Vigilanza Rai nel 1975, che ha il compito di revisionare tutto quello che viene prodotto in Rai e allo stesso tempo anche di poter cambiare come funziona la Rai stessa. Il problema è che la nascita di questa stessa commissione dava la possibilità, sì, alle opposizioni di entrare nel contesto e nelle decisioni della Rai, ma allo stesso tempo di mantenere quella lottizzazione che c'è tuttora, vale a dire il rendere ogni canale proprietà di qualche partito, a seconda appunto di chi sta più nella maggioranza e chi sta più invece all'opposizione. Da quando si è insediato il nuovo governo, alcune cose sono cambiate in modo un po' più evidente rispetto a prima. Alcuni leader di partito che hanno sempre osteggiato alcuni conduttori si sono adesso ritrovati al governo e quindi proprio questi conduttori hanno preferito andare via rispetto al venire cacciati direttamente dai nuovi vertici Rai che sarebbero cambiati. E oltre a tutto questo, un altro problema è proprio la parcondicio. Come succede infatti in occasione di ogni elezione nazionale, in Italia si torna a parlare di parcondicio in Rai, ovvero l'insieme di regole che garantisce la parità di accesso a determinati spazi nei mezzi di informazione alle varie informazioni politiche. Potremmo stare a parlare per ore della parcondicio ma diciamo che per semplificare la legge che più la riguarda è quella del 2000 che pretende ci sia un contraddittorio quando esponenti politici parlano nelle trasmissioni durante la campagna elettorale. A introdurre la legge sulla parcondicio fu il governo di centrosinistra guidato da Massimo D'Alema che pensò a questa legge per limitare il potere mediatico di Berlusconi all'epoca leader del centrodestra e proprietario di Mediaset. Proprio della parcondicio se ne è parlato tantissimo in questi giorni e in particolar modo perché un emendamento della commissione di vigilanza della Rai aveva stabilito una piccola novità per quanto riguardava la propaganda e i comizi elettorali durante il periodo di campagna elettorale. Il punto è che lo spazio in Rai dovrebbe essere lo stesso per tutti quanti proprio per la parcondicio. Il problema è che per gli esponenti di governo è stato dato più spazio e più tempo nel caso in cui parlassero di attività di governo oltre alla mancanza del contraddittorio sempre per la stessa tematica. Il problema che le opposizioni hanno sollevato riguarda però il fatto che chi è che poi può stabilire cosa è attività di governo e che cosa invece è semplicemente propaganda. In conclusione penso che sia un tema che meriti grande spazio e un peso importante. Questo perché ne va dalla nostra stessa qualità dell'informazione che abbiamo. Già a partire dal fatto che il comunicato Usigrai parli di potenziali cinque giorni di sciopero significa potenziali cinque giorni di sciopero dei giornalisti e quindi niente telegiornale che è la fonte primaria del quale la gente si informa in Italia e quindi allo stesso tempo avrebbe una serie di conseguenze sulla stessa informazione che secondo me non porterà nulla di positivo. Cambierà qualcosa? Io credo che le agitazioni ci saranno all'interno della Rai e un fatto così grave non può non portare a delle conseguenze ma non escludo anche che tutto quanto possa risolversi senza un grande cambiamento. Quello che ci portiamo a casa è la necessità e il bisogno sempre più rilevante che abbiamo della ricerca della qualità dell'informazione. È qualcosa che non può cambiare e che nel nostro piccolo cerchiamo sempre di fare. Non è il caso di fare allarmismo per questa situazione ma allo stesso tempo penso meriti la giusta rilevanza. Sono curioso di sapere cosa ne pensate riguardo al video e vi chiedo quindi di lasciare un commento iscrivervi al canale e mettere mi piace. Noi ci vediamo poi alla prossima con un nuovo video.